Per i lettori e amici di Vivi Casagiove con coach Luca Bobbio, allora coach è una sconfitta inaspettata quella odierna? Inaspettata però meritata, abbiamo giocato male, confusionari, forse c'era troppa attesa per questa partita, la squadra avversaria era ben organizzata, ha giocato bene, c'è stata superiore in quasi tutti i fondamentali, giustamente alla fine si è giudicata la partita. E dovesse fare un'analisi oggi, cosa è successo, cos'è che è mancato? Io spero solo che sia dipeso dall'emozione, dalla tensione, dalle aspettative che si erano create intorno a questa squadra, sicuramente abbiamo giocato male e alcune cose dovremmo rivedere a partire pure dalle nostre ambizioni, magari abbiamo fatto, come si vuol dire, i conti senza l'oste, forse ci sono squadre più organizzate di noi, più attrezzate di noi e per batterle bisogna dare qualche cosa di più. Quindi a proposito di ambizioni, quale può essere l'obiettivo di questa squadra? Io sono convinto che sia un girone molto equilibrato questo, dove ci si giocherà fino alla fine i posti per i play-off, per la vittoria finale che mi ha. Pensiamo di avere una squadra anche discretamente attrezzata, poi naturalmente deve venire la prestazione su ogni singola partita, specialmente su campi di squadre così agguerrite, che difendono alla morte, c'è stato dei frangenti in cui loro hanno difeso tutto, noi invece siamo disuniti quando loro hanno iniziato ad attaccare in modo piazzato, abbiamo fatto confusione in difesa, la nostra pecca principale è stata questa. Ok, grazie.